Si ferma nuovamente il Cosenza, questa volta lo fa con un pesantissimo tonfo casalingo arrivato per mano di una Juve Stabia ordinata, brave e cinica a colpire in contropiedi il rosso-blu, alle prese con le solite clamorose dormite difensive. Dopo 25 minuti di noia assoluta le Vespe mettono in discesa la gara con un micidiale 1-2 arrivato nel giro di 4 minuti e firmato da Lisi al 28esimo che trova l'angolo lontano con un tiro a giro e deviato e da Canute al 32esimo che di testa da dentro l'area sfrutta un astis perfetto di Cutolo. Endramigol nascono da azioni portate sulla fascia occupata da Danna apparso frastornato e confusionario. Nella ripresa De Angelis cambia subito togliendo dal campo proprio Danna percorsi e rosso-blu partono all'attacco ma al 48esimo dal lungo lancio delle retrovie Canute e Brugge in velocità tedesche fischiatissimo e contestato dai tifosi si presenta davanti a Perina lo scarto e deposito in rete la palla del 3-0. Gara chiusa ma che è tutt'altro entra Cavallaro per caccetta e il Cosenza al 59esimo trova con l'inzuccata di Baclet su sponda di Statella la rete dell'1-3. I rosso-blu spingono ancora la Juve Stabia ringuli in difesa e dopo una rete annullata a Baclet per fuorigioco lo stesso attaccante frangese servito da un assist preciso di Mungo di piatto scaraventa il gol il pallone del 2-3 che di fatto riapre la contesa. A questo punto i rosso-blu ci credono e spingono a tutta la ricerca della rete del clamoroso pareggio ma a 9 minuti dal termine la solita frittata difensiva permette a Lisi di lanciarsi in contropiede sfruttando uno sciagurato retropassaggio di tedeschi e fulminare Perina con un bellissimo tiro in grociare che va a morire proprio nel 7. Cosenza 2 Juve Stabia 4 in pratica la gara finisce qui il Cosenza perde lo scontro diretto e viene pesantemente fiscato dai propri tifosi che per la prima volta condessano anche il presidente Guarascio. Grazie a tutti.